Buonasera a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video su maternitrot.g Siamo qui in questo nuovo episodio di grandissimo gioco Far Cry Prima Ci troviamo precisamente nella Piranacuti La Piranacuti La Piranacuti La Piranacuti Basta Basta Ok Andiamoci la club Oh comandi Persioni Gioco Comandi Allora armi Ah L1 Perfetto Oh bene non mi ricordavo Perfetto Incendiamola Andiamoci 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 Piranacuti Piranacuti Pira reclamata Conferisce popolazione Un Aumentato Ed è andata Vai Chiudi 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 E qua Popolazione 5 Oh La faccio Scorta Non ci sta Non ci sta Una specie di Di qui possiamo anche riposare Di regola Sì 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 questo È un letto Sì possiamo riposare Sì possiamo riposare Ok ora dove dobbiamo andare Per dove dobbiamo andare No aspetta Qui Tensi lo sciamano Oddio Andiamo in territorio orsi Territorio orsi Oh cazzo Non mi piacciono Gli orsi Non sono così Il campo Comunque Lì 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 Scorte Ok Lugo sconosciuto Ok Andiamo da attenzione Lo sciamano Ok Mamma mia Ragazzi Sto a pochi metri Eh vabbè però Senza calcolare Ok Basta Teniamoci Questa cosa Grazie La lancia Grazie Ok Che mi dice Sono al massimo Posso incendiare la lancia Davvero fai Oh Mamma mia Lancia Incendiaria Vai Prendi piede Diciamo il napoletano Prendi piede Ok Tutto bene Guardate Ecco qui Questa È La dimostrazione Che i piromani Esistevano Sin dall'inizio Di te Stronzi 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 O incendi Incendi Poi adesso Ok Vai Via 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 Boom Boom Mamma mia Guardate qui Che Grandi Eroi Che stiamo Boom 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 Olè Grandi eroi Ma grandi Stronzi Anche Ok Curiamoci Oh La faccia Sembra la loro Freddezza Ma che sei fatto Di ferro Ok Va la faccia Ok 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 Foglie rose Ok Abbiamo fatto un evento Il nostro primo evento Tra l'altro Guardate qui Già i primi segni Di popolazione Ma qui Quindi possiamo Perfetto Il fuoco Non lo spegniamo Perfetto Nascita 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 Ecco L'itenzi Lo sciamante Oh mio dio Pensiamo Che non L'urso Si O te ne vai O te ne vai Decidi Posso morire Ok Bene Ora Ci abbiamo Creato un'altra Lancia Vai Vai Con il legno Ecco Ed è raga La fine Quello che fate In questo gioco Ve lo ritrovate Perché Ma io sono Un po' più furbo Ok Andiamo Ben 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 Banzaiu! Banzaiu! Bumandata! Banzaiu! 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 Yikala! Banzaiu! 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 Ikiu! Vanganiu! Kibaneu! Stop the earth! Ikiu! Banzaiu! Kibaneu! Kibaneu! Oh mio dio Dio non mi fiderei però Ci ha dato i funghi allucinogeni Cosa tipica di Far Cry E' più che normale che ci ha dato i funghi allucinogeni Va bene, va bene Visione bestiale In pratica siamo sotto effetti di droghe Potenti Visione bestiale 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 veramente Cosa Singuila guida Chi è? Dove porto? Oddio Cosa? Oddio Oh che figata Oh cazzo Sono un gufo Sono un gufo Oddio come vado veloce Speriamo che lo sia anche dopo così veloce che è un gufo Oh ma siamo pazzi Sono un gufo Sono un gufo Sotto acqua Chi ha detto che i gufi non andavano sott'acqua? Questa rappresenta la notte Ok 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 Wow tra l'altro non possiamo correre Andare con calma Il nostro gufo è lì Wow che figata Che bello È veramente impressionante Questo gioco È un gioco più di un gioco Mamma mia Che gioco Che gioco Un gioco Un gioco No Dobbiamo seguire Oh mio dio Che ci siamo scansati Ragà che ci siamo scansati Lì Lì La morte proprio Certa Ci siamo scansati Mio dio Certa 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 Wow C'è di chi girano in 5 C'è di chi girano in 5 C'è di chi girano in 5 Vito, sai dai? Non è cosa del genere No Vai Oddio Lupi Non mi fanno nulla Tigri Non mi fanno niente Ursi Che figo Tos 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 Oh, mia mio Pagno Pagno Tos Madò ma che figata Ma che figata Che figata Che figata Ci dico nessuno Nessun sogno Spirito gruppo chiamate il maestro di Belben Si vai maestro in me Calma spiriti di natura Va a combattere loro per ti Bene 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 Per Cosa Cosa Wow ragazzi, veramente formidabili Formidabili, si, ok ma non mi ricordo che siamo in giro di qua Ok Ok No raga perché sbagliamo strade? Io mi perdo, io mi perdo Ok, benissimo, non ci perderemo Allora, allora Che siamo così idioti Bene, di qua Bene, di qua Ok 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 Un'altra cosa che ci regala Lo sciamano Accendi la fincia, benissimo Ok Ok Così non Non Lasciate stare Tansy Lo sciamano personale Per farlo combattere al tuo fianco Dovevo lo specialmente per il tuo villaggio Abilità per domare In scambio Ok, però io su questa strada non mi vedo Però credo Che ci riusciamo A fare una strada più No No